Ciao da Valentina, la prof di LinkedIn. Oggi parliamo del sommario. Il sommario che cos'è? È il testo che vedi sotto al tuo nome. E perché è importante? Beh, è molto semplice. La cosa importante è comunicare in due o tre parole quello che sei, quello che vuoi dire alle persone. Quindi ingegnere, esperto in meccanica, ingegnere, eccetera, eccetera. Utilizza le parole chiave. Quella è la cosa fondamentale. 120 caratteri, scegli prima la parola chiave che deve essere ripetuta in quasi tutte le occasioni plausibili all'interno del profilo. Perché LinkedIn funziona ancora come era Google, quindi con la keyword density, densità delle parole chiave per farti trovare. Bene, questo è tutto. Mi raccomando vai a modificare subito il tuo profilo. Pensa bene a cosa dovrebbe leggere un ipotetico cliente per essere attratto da te, proprio nel tuo sommario. Ciao e mi raccomando esagera sempre!